Bambini, ma voi avete mai giocato a sto gioco? Cosa dite? È super divertente? Ciao bambini! Bentornati! Oggi io sto aspettando la mia amica che ha comprato un nuovo piumino e io ho comprato dei nuovi pantaloni volevo farlo vedere che i miei sono più belli del suo... del suo piumino Oh! C'è qualcuno che suona la porta! Ma chi è? Chi è? Sono Giulia! Eccomi! Ciao! Guarda il mio piumino, ti piace? Guarda che bello! Tutto rosa! Oh! Con un fiocco dietro! Fantastico, vero? Mmm! Sì! Mi piace tanto! E a te i miei pantaloni piacciono? Guarda! Sono con le stelle grigi! Ma non sono grigi! Sono dei jeans! Bello, vero? Il mio piumino? Mmm! Faccio in diretta giusto per farti vedere bene! Ah! Ma allora guarda bene anche i miei pantaloni! Cosa dici se oggi facciamo una sfida? E se vinco io, te mi dai il tuo piumino! E se invece vinco io, scusa? Se vinci tu... Mmm! Io ti do i miei pantaloni! Sì! Come si chiama la sfida? La sfida si chiama Chiappa i pulci! Oh! Ma non mi piacciono i pulci! Ma non sono veri! È un gioco! Davvero? È divertente? Mmm! Dipende cosa tu intendi per divertimento! Si ride tantissimo! Ah! Dobbiamo acchiappare i pulci con le mani? No! Ma valla! Con le pinze! Oh! Davvero! Con le pinze! Giochiamo! Giochiamo! Aspetta però che mi tolgo il piumino che ho caldissimo! Sì! Vai! Io preparo il gioco! Giù! Il gioco è pronto! Ah! Mi sta arrivando! Eccomi! Bambini! Ma voi avete mai giocato a sto gioco? Cosa dite? È super divertente! E dov'è il gioco? Ah! È vero! Devo portarlo ancora! Arrivo! Eccomi! Oh! Ma è questo! Allora! Ti racconto io del gioco! Ci sono tre pinze! Una verde! Una blu! E una gialla! E ci sono 36 pulci! 12 verdi! 12 gialli! E 12 pulci blu! Ah! Quindi come giochiamo con tre pinze in due? No! No! Giochiamo solo con due pinze! Mmm! La vuoi mettere così questa sfida? La vuoi proprio al mio piumino? Sì! Sì! Che pinze scegli Giulie? Mmm! Quella verde! Ok! Allora io prendo quella blu! E come funziona il gioco? Allora il gioco si chiama Chiappa Pulci! E dice che il pippo è svegliato con un problema prurignoso! E che dobbiamo catturare tutte le pulci saltelanti! E farlo in fretta! Poi qui ci sono le regole del gioco, come si vince, come preparare il gioco, ma noi l'abbiamo già fatto! E schiacciamo il bottoncino! Dai giù! Inizia tu per prima! Ok! Ci provo io a prenderne una verde! Oh! Ma è difficile! Ma è difficile! Saltellano! Guardate bambini! Una pulce seridente! Una verde per me! Adesso ci provo io! Oh! Opa! Ho preso una azzurra! Oh! Scusami giù di blu! Provo io! Ah! No! Non l'ho presa! Faccio io allora! Presa! Provo di nuovo io! Oh no! La sua pulce è scappata! La metto di qua! Oh! Quella verde! Ah! No! Adesso ci combatto! Mio il piumino! No! Mi prendo io! Siamo pari! Siamo pari Giulie! Ho preso il pulce verde! Sto perdendo! Pulci gialli! Ma non ci servono i pulci gialli! Io sto vincendo! Io sto vincendo! Non è vero! Sì invece! Guarda! Oh! Ma aiutatemi bambini! Aiutatemi! Oh! Non scappi! Via! Oddio! Sono rimaste più verdi! Vuol dire che io sto perdendo! Oh! Adesso faccio la furba! Provo a prenderli con le mani! Oh! Le mie sono quelle blu! Oh! Non ce la faccio! Neanche la furba riesco a fare! Dai! Pulci vieni da me! Oh! Mi sa che ho perso! Adesso riprovo con la pizza! Dai! Dai! Pulce! Presa! No! È saltata di nuovo nel letto! Presa un'altra! Ah! Sto vincendo! E l'ultima! Presa! Ho vinto io! Io ho vinto! Adesso tu mi devi dare i tuoi pantaloni! E se facciamo la rivincita? Proviamo a prendere gli ultimi pulci che sono rimasti? Quelli gialli? Sì! Proviamo! Allora togliamo quelle verdi e vediamo chi prende più dei pulci gialli! Pronta? Sì ma stavolta giochiamo con le mani! Ok! Via! Oh no 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 no! Una! Mia! Due! E via! Un altro e tre via! Ah! Vuoi fare così? Non le prendo io a tante! Oh! Due, tre, cinque, quattro, sei, sette! Degite le pulci! Contiamole! Come facciamo adesso? E dobbiamo contare i pulci! Allora io conto le mie! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei! Sei pulci! Adesso guarda io quanto ne ho sicuramente più di te! No! Non è vero! Sì sì! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei! Io anch'io ne ho sei! E come facciamo? Ha vinto la vicissia! Vuol dire che tu mi darai grazie sul tuo pomino e io ci do grazie sui miei pantaloni! Ok? Ah! Lo scambio della mica! Sì! Bambini se vi è piaciuto il nostro video mettete mi piace! E se non vi piacciono i pulci! Scrivetelo sotto! Oh no! È vero! Ciao ciao bambini! E guardate i nostri video qua nei angoli! Ciao! E guardate i nostri video qua!